cari amici programmatori bentornati nel canale cripto voglio ringraziare prima di tutto le persone che continuano ad iscriversi siamo arrivati quasi a quota 1600 iscritti allora in questo video vediamo cosa sono e un esempio di utilizzo dei record introdotti con java 17 allora inizio a crearmi un nuovo progetto di tipo maven project come archetype scelgo maven archetype quick start ok questo vado avanti gruppi di cripto artefatti di record project allora qui prima di tutto una cosa attenzione a selezionare come compiler version almeno la versione 17 ovviamente i record sono stati introdotti con java 17 se qua andassimo a specificare una versione precedente alla 17 non riconoscerebbe le parole chiave come esempio record che ci servono all'interno di questo esercizio quindi attenzione qui a lavorare con la versione di java 17 junit version vabbè questa è la versione di junit la 5.11 va bene quindi finish ok e qui mi inizia a creare il progetto ok mi ha creato record project come al solito tutta la struttura del progetto già creata a partire dall'archetype specificato qui ho la classe app creata automaticamente perfetto nel pom oggi unit come libreria ok allora cosa facciamo iniziamo a creare una classe persona ipotizziamo di avere in questa classe persona ad esempio due attributi quindi private final string name e private final string address cosa facciamo adesso ci andiamo a generare non lo scrivo diciamo a mano per una questione di tempo però mi vado a generare il costruttore che prevede come parametri name e address mi vado a generare i getter per entrambi gli attributi genero il metodo to string e genero i metodi hash code e equals quindi diciamo che ho definito la classe persona che ha due attributi il costruttore con parametri e poi tutti i metodi di base cioè quelli che permettono di lavorare con oggetti di questa diciamo istanze di questa classe quindi ho il to string ho l'hash code ho l'equals eccetera eccetera nella classe app se io scrivo persona p1 uguale new persona per esempio anna e via roma 1 p1 è un oggetto istanza della classe persone posso andare a fare tutto quello che voglio con p1 quindi p1 punto ecco equals get name get address hash code to string tutto quello che io ho definito all'interno della classe persona i record cosa mi permettono di fare i record permettono di avere tutto quello che io ho scritto all'interno di questa classe con una sola riga di codice quindi se io qui scrivo se io cancello questa classe la cancello quindi non ho più la classe persona ma all'interno della classe app scrivo public record persona string address string no string name string address ecco qua io con una riga di codice il record cosa rappresenta? rappresenta praticamente la classe che abbiamo definito pochi minuti fa cioè la classe che contiene la definizione di due attributi name e address e poi il costruttore che prevede due parametri per l'inizializzazione degli attributi name e address quindi vedete la persona adesso me lo riconosce anche se io non ho più la classe persona però persona come tipo me lo riconosce perché io sono andato a definire il record persona quindi anche il costruttore con parametri vedete lo riconosce perché per l'appunto mi viene messo a disposizione direttamente dal record più uno punto ecco equals vedete chi lo ha creato l'equals lo crea automaticamente viene messo a disposizione automaticamente dal record hash code messo a disposizione automaticamente dal record to string name che è il getter dell'attributo name address che è il getter dell'attributo address quindi io con una sola riga di codice ho sostituito tutto quello che avevo all'interno della classe precedente con appunto una sola riga con il record il record persona ora diciamo di voler verificare che effettivamente tutti i metodi che il record mette a disposizione funzionano correttamente allora qua posso fare una cosa cancello main e ad esempio mi definisco un metodo di test public void test getters ovviamente test lo devo importare da junit quindi test getters string name uguale marco string address uguale via roma 2 qui string e all'interno di questo metodo di test cosa faccio mi definisco un nuovo oggetto di tipo persona più uno uguale new persona passando i name e address e poi assert equals name più uno punto get name più uno punto name name assert equals ovviamente lo devo importare da junit e assert equals address più uno punto address vediamo se questo test va a buon fine quindi runes unit test ok il test test getters è andato a buon fine quindi metodo che abbiamo creato per testare i getter quindi per l'appunto ci siamo creati un oggetto di tipo persona dove persona è il record e poi abbiamo testato che effettivamente i getter cioè name il metodo name e address di più uno che è il record restituisce per l'appunto name e address che siamo andati a che abbiamo utilizzato quando abbiamo dichiarato quando abbiamo definito l'oggetto di tipo persona l'oggetto più uno ok ora andiamo a testare test equals dove abbiamo sempre name e address e poi ci definiamo un persona p1 uguale new persona passando di sempre name address e poi cosa facciamo ci andiamo a definire un persona p2 a cui passiamo insieme name e address e ci richiamiamo assert true p1 punto equals p2 assert true ovviamente lo devo sempre importare da junit quindi questi metodi questi oggetti sono uguali in questo caso nel contenuto dovrebbero essere uguali run junit test barra verde quindi effettivamente test equals per verificare che il metodo equals messo a disposizione dall'oggetto p1 che è di tipo persona dove persona è il record p1 è uguale a p2 nel contenuto ovviamente non nei riferimenti non sono lo stesso oggetto ma sono uguali nel contenuto ok ora ci andiamo a definire il nostro test hash code dove abbiamo sempre name address abbiamo sempre p1 e p2 due oggetti di tipo persona cosa andiamo a testare però andiamo a testare assert equals che p1 punto hash code sia uguale a p2 punto hash code vediamo vediamo anche questo test va a buon fine ok barra verde questo significa che anche l'hash code il metodo hash code funziona correttamente cosa ci rimane quindi abbiamo visto i getter abbiamo visto l'equals abbiamo visto l'hash code vediamo se funziona come funziona il se funziona correttamente anche il to string quindi qui magari prima dell'assert equals facciamo p1 punto to string e p2 punto to string vediamo se in console visualizziamo anche le informazioni dei due oggetti facciamo così andiamo in debug non le vedo in console lo rifaccio no non riesco a visualizzarlo in console però dovrei vedere il to string del dei due oggetti vabbè magari questo lo lascio a voi come verifica verificate che il to string di p1 restituisca le informazioni dell'oggetto quindi il valore di name e address stessa cosa per l'oggetto p2 non voglio far durare troppo il video ok ragazzi questo è l'utilizzo base dei record quindi spero che abbiate capito a cosa servono qual è uno dei vantaggi diciamo così parliamo diciamo se vogliamo parlare di qualche vantaggio ovviamente abbiamo molto codice scritto in meno quindi una cosa è avere 40 classi come ce l'avevamo prima nel vecchio stile diciamo così è una cosa avere 40 righe con la definizione di 40 record quindi vi rendete conto benissimo della quantità di codice che viene risparmiato e quindi anche la possibilità di commettere meno errori durante la scrittura di codice poi un altro vantaggio uguale se io diciamo nella classe che avevo prima volevo andare ad aggiungere o rimuovere un attributo dovevo andare a modificare tutti i metodi il costruttore il l'equals il hash code tutti avrei dovuto mettere mano a tutti i metodi qui devo solamente andare ad aggiungere un attributo esempio int age all'interno della definizione del record adesso non guardiamo questi errori qui diciamo del costruttore ma aggiungendo solamente un attributo automaticamente tutti i metodi quindi l'hash code l'equals vengono adattati automaticamente e quindi vedete anche diciamo come si velocizza la programmazione la quantità di codice risparmiato eccetera ok ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a continuare ad iscrivervi per raggiungere il prima possibile quota 1600 iscritti e ci risentiamo nel prossimo video un grande saluto a tutti ok